La Francia riapre i suoi battenti. La Francia, questo bellissimo paese ubicato nel nostro continente, il continente europeo, dunque riapre completamente tutto quello che è possibile andare a riaprire. È stato proprio il presidente francese Emmanuel Macron a compiere la scelta di riaprire tutto, addirittura le scuole, addirittura gli edifici scolastici. In particolare il buon Emmanuel Macron, attuale presidente francese, avrebbe detto in proposito vittoria contro il virus, vittoria contro il coronavirus, la Francia è zona verde. Dunque avrebbe poi aggiunto voltare la pagina del primo atto della crisi provocata da epidemia. L'estate 2020 non sarà un'estate come le altre, bisognerà seguire l'evoluzione dell'epidemia per prepararci al meglio. La lotta non è ancora finita, ma sono felice con voi per questa prima vittoria contro il virus. Dunque riaprono i ristoranti, i bar di Parigi, gli asidi, le scuole elementari, le scuole medie. Dal 22 luglio si ritroveranno ritmi e obblighi dei tempi della relativa normalità. Macron ha fatto anche un bilancio di quello che si è verificato, rivendicando la scelta di mettere la salute davanti a tutto, davanti all'economia, ammettendo errori ma rivendicando i successi. Non dobbiamo vergognarci del nostro bilancio. Decine di migliaia di vite sono state salvate grazie alle nostre scelte ed anche alle nostre azioni. Lo Stato ha tenuto. Insomma, è fiducioso, felice e soddisfatto. Emanuele Macron. Iscrivetevi, commentate. Un salutone da Leandro, narratore italiano.